Mascherrani, all'Aquila ha detto a lei non si può ricominciare da capo con una nuova amministrazione diversa da quella di Cialente? Sì, voglio dire, Cialente, questa amministrazione ha fatto un'esperienza importantissima in una condizione di racconto, ha impostato un lavoro e oggi ha la possibilità di accelerare, è importante non perdere tempo, quindi questa è un'ottima ragione per sostenere Cialente questa coalizione e accelerare i tempi della ricostruzione e della ripresa economica e sociale. Tra i problemi che lei ha citato è anche quello dell'accesso a credito, non è un problema solo a Quilano ma è un problema nazionale? È un problema assolutamente nazionale, anzi è un'emergenza nazionale, occorre fare politiche di sostegno, consorsi fidi, di costruire relazioni con il sistema del credito e con il sistema bancario, avere una risposta anche dal governo per realizzare politiche relative ai pagamenti degli enti pubblici alle imprese, che è un'altra priorità.